ben ritrovati con la rasegna stampa in studio con voi rosario moreno la festa dei dieci anni del fatto quotidiano.it il 22 giugno 10 ore di live streaming con grandi ospiti da giuseppe conti a nicola gratteri da ellie scline a fedez e roberto mancini lunedì 22 giugno 2020 partecipa insomma anche tu alla grande giornata per il decimo compreanno del fatto quotidiano.it 10 ore di live streaming a partire dalle 10 del mattino con i fondatori del fatto i giornalisti del sito e la squadra social tanti incontri insieme a grandissimi ospiti della politica delle informazioni dello spettacolo e dello sport protagonisti saranno sempre i lettori che potranno interagire con domande a tutti gli ospiti conte chiude gli stati generali dell'economia dice infrastrutture fibra ottica e taglio del cuneo fiscale le componenti sane e migliori del paese chiedono pagamenti elettronici il premier dell'ultimo giorno a villa panfili dice passerelle qui ha sfilato un paese intero in tutte le sue componenti un dialogo che ha rafforzato il governo ora rielaboriamo il piano rilancio e valutiamo scostamento bilancio frena su abbassamento iva che dice misura costosa da studiare con molta attenzione alex zanardi il bollettino dice il bollettino medico dice che le condizioni sono stabili non si possono escludere eventi avversi resta grave il quadro il quadro neurologico è sedato intubato e ventilato meccanicamente spiega così il bollettino dell'ospedale il direttore del dipartimento emergenza urgenza del policlinico di siena ha detto in settimana decideremo se iniziare a sospendere la sedazione per valutarlo breve storia del razzismo dall'odio religioso nel medioevo all'apartheid c'è un libro per capire l'ascesa e il declino di un prodotto occidentale il saggio scritto dallo storico americano george friedrickson ripercorre secoli di discriminazioni e intolleranza evidenziando come nonostante sia un fenomeno globale gli eventi più drammatici si siano collocati fra l'europa e gli stati uniti paradossalmente proprio dove il contesto politico immaginava una società fondata sull'uguaglianza coronavirus l'oms scrive che c'è un record di casi in un giorno nel mondo 183 mila e 20 in brasile più di 50 mila morti dall'inizio della pandemia la maggior parte dei casi cioè 116 mila 41 sono stati diagnosticati in america latina il totale delle infezioni nel mondo da inizio pandemia e da pandemia è di 8,7 milioni il ministero della salute brasiliano ha registrato nelle ultime 24 ore 641 nuovi decessi portando il bilancio a 50 mila 617 mentre i contagi sono saliti a un milione 85 mila 38 notizie da napoli e dalla campania carabinieri e carabinieri presidiano la movida in centro oltre 400 persone controllate se denunce non si fermano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di napoli durante la movida del fine settimana in centro città 428 le persone 186 con precedenti di polizia 121 i veicoli controllati dai militari della compagnia di napoli centro insieme a quelli del reggimento campania del nucleo radiomobile e del nas partenopei positiva al covid partorisce contagiato anche il figlioletto due positivi in campania ieri dopo due giorni a contagi zero si tratta di una donna bulgara che ha partorito a mondragone punto risultata positiva al tampone ma asintomatica contagiato anche il neonato la donna è stata trasferita al cotugno in isolamento lutto nel mondo della chiesa napoletana è morto monsignor ugo dovere si è spento improvvisamente monsignor ugo dovere 64 anni sacerdote della diocesi di napoli canonico della chiesa cattedrale professore di storia della chiesa alla facoltà teologica e ideatore del museo diocesano notizie da treviso e dal veneto treviso spacciava usando la chat della playstation arrestato un ragazzo di 17 anni il giovane aveva un giro di una trentina di minori dopo la convalida è stato portato in una comunità gli usa minacciano ancora il prosecco dazi dazi sulle bollicine se passa la web tax e martina dal grande dell'anga dice sarebbe un colpo durissimo scotti bonaldi ha detto non possiamo permetterci altri balzelli treviso assemblamenti stangata al trevisi l'osteria punita dalla nuova ordinanza contestati i clienti che bevevano fuori dal locale e dal plateatico stop di cinque giorni la gara ha detto giusto tutelare anche i residenti conegliano tutta la classe si mobilita per aiutare il compagno rimasto senza casa l'abitazione è stata semidistrutta da un incendio i ragazzi del liceo ora vogliono raccogliere 30 mila euro per dare una mano alla famiglia sfrattata dal rogo scivola per decine di metri lungo una ferrata morto un escursionista 65 anni l'incidente mortale è avvenuto a pontebba in provincia di udine ed intorni del monte cavallo inutile e ogni tentativo di soccorso a perdere la vita è stato pierluigi donna donna notizie dal friuli venezia giulia sempre per lo stesso fatto che abbiamo detto per treviso colpito da un masso mentre arrampica muore sotto gli occhi degli amici tragedia in comune di pontebba nulla da fare per un uomo di 65 anni residente in provincia di treviso una tragedia sul monte cavallo nel territorio del comune di pontebba l'uomo di 65 anni come dicevamo prima pierluigi donna donna residente a conegliano che stava arrampicando insieme ad alcuni amici è deceduto dopo essere stato colpito da un masso mentre si trovava incordata è morto sul colpo escursionista in difficoltà sull'iof di miezegnot soccorso a un giovane triestino bloccato in un tratto franoso e impervio a quota 1800 metri le stazioni di moggio udinese di cave del predile hanno ultimato intorno alle 21 le operazioni di soccorso di un giovane escursionista triestino rimasto bloccato fuori sentiero in un tratto impervio scendendo dagli off di miezegnot lungo il sentiero con segna via cai 606 a una quota di circa 1800 metri cucina in fiamme a cercivento incendio nel pomeriggio o in un'abitazione in via di sott leggermente intossicata l'anziana residente i vigili del fuoco del distaccamento di tolmezzo sono intervenuti alle 15 20 per un incendio che è interessato un'abitazione in via di sott a cercivento l'immobile a un fabbricato in linea che si sviluppa su due piani vasto rogo distrugge un rustico a maniago incendio nella notte in via marco polo l'edificio di roccato era usato spesso come rifugio da senza tetto intervento dei vigili del fuoco nella notte a maniago in via marco polo a poca distanza dal sottopasso ferroviario al torrente colvera e vicino al torrente colvera l'allarme scattati intorno a mezzanotte facendo a correre sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di maniago e del distaccamento di spilimbergo mentre dal comando di pordenone è giunta anche un'autobotte esce di strada era positivo all'alcol test a trieste al giovane conducente classe 2000 è stata ritirata la patente uno sloveno denunciato per furto insomma ieri per morigi il personale della squadra volante della questura di trieste ha denunciato per furto un cittadino sloveno classe 1988 aveva sottratto una maglietta esposta in un negozio di viale 20 settembre bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della rassegna stampa il studio con voi rosario moreno buon proseguimento con la programmazione grazie a tutti 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 grazie a tutti